Salve ragazzi, oggi andiamo a vedere come creare un modello 3D da zero su Fusion 360, il programma più utilizzato per creare modelli 3D professionali destinati alla stampa 3D di una cover, diciamo, una scatoletta di protezione di Arduino Bene, quindi apriamo Fusion 360 e vi dovrete procurare un modello di Arduino Mega Lo potete creare voi a grandi linee oppure lo cercate su internet come ho fatto io e tra l'altro vi lascio il link in descrizione per andarlo a scaricare gratuitamente Partendo da questo modello di Arduino Mega dobbiamo andare a creare uno sketch sulla parte alta Quindi posizioniamoci sul top plane, premendo P ci si aprirà il project e andiamo a proiettare tutte le linee di contorno Questa funzione a che serve? Serve per appunto proiettare una linea su un plane, un piano di lavoro che è differente da quello dell'oggetto che vogliamo andare a tracciare Fatto questo andiamo a premere ok in modo tale che adesso anche se andiamo a rendere invisibile l'Arduino Mega tramite questo occhio noi abbiamo comunque la nostra linea che ci delimita Bene, fatto questo andiamo a creare un piccolo offset che sarà un margine di sicurezza per fare entrare Arduino Altrimenti la dimensione sarà perfettamente esatta e dovremo fare molta forza rischiando di danneggiare sia il pezzo sia l'Arduino Per il margine andiamo quindi su modify e poi change parameters Fatto questo andiamo a premere sul più e dovete sapere che Fusion è un programma parametrico Cioè noi possiamo impostare dei parametri che poi possiamo usare nella modellazione In modo tale da non dover andare a scrivere per esempio sempre un numero Ma è anche utile per modificare il progetto dopo Quando per esempio ci accorgiamo che i buchi sono troppo stretti Allora andiamo a cambiare il parametro in modo che si allarghino o si stringano Non dipende Name andiamo a mettere come nome margine e come expression o value Andiamo a mettere un valore di 0.5 mm In modo tale che ci sarà un margine di mezzo millimetro per ogni oggetto Andiamo poi su un'altra volta più andiamo a mettere spessore Per lo spessore io direi che 5 mm va abbastanza bene Fatto questo andiamo a fare O di offset Andiamo a prendere questo project che abbiamo fatto prima Andiamo a scrivere margine Bene quindi andiamo a premere su ok Se non lo volete scrivere per l'intero vi basterà scrivere mar Oppure le prime due lettere e poi premere invio Come vedete si è creato questo piccolo spazio di aria tra virgolette In cui noi possiamo andare a dare un po' di gioco all'arduino Andiamo a creare ora la vera e propria scatola Facendo di nuovo offset sulla parte più interna Andiamo a scrivere margine più spessore Ecco qua che possiamo vedere che da qua a qua ci sono 5 mm Perché vogliamo una cosa veramente molto resistente Andiamo su finish sketch Mettiamoci nella visuale predefinita nella home tramite questo pulsantino qua E andiamo ora a con il tasto E Estrudere il nostro profilo Prima verso la parte più alta del disegno Che credo sia proprio questo connettore qua Quindi clicchiamo sul connettore Poi invece di cut andiamo a mettere new body E qua ci apparirà la misura Noi facciamo questa misura più margine In modo tale che abbiamo il margine anche da questa parte Fatto questo andiamo qua giù Andiamo a premere di nuovo E Che sta per estrudi E andiamo a portare nella parte più bassa Che sarà sicuramente questo piedino qua Fatto questo andiamo a mettere 4.15 Più margine Con l'operazione join Fatto questo abbiamo già a grandi linee La nostra scatola di protezione Però dobbiamo andare a chiudere sia il sotto sia il sopra Per fare questo basta che andiamo a cliccare su questa faccia E andare su create sketch Fatto questo usciamo dallo sketch E come vedete adesso potremo selezionare la parte interna Quindi andiamo su E di estrudi Andiamo a selezionare questi due profili E lo andiamo ad abbassare di spessore In modo tale che come vedete Avremo 5 mm di spessore nella parte bassa Per questo andiamo a premere ok E facciamo la stessa cosa per la parte di sopra Quindi andiamo a selezionare questo profilo Create sketch Finish sketch E di estrudi Seleziono questi due profili E scrivo spessore Premio invio Ci manca il nostro buco per la porta Per fare questo dobbiamo andare a creare uno sketch Su questa faccia qui E indovinate che comando andremo a utilizzare Esatto il comando project Quindi proiettiamo tutte queste linee Stando molto attenti anche alle parti un po' più nascoste Che non si vedono molto bene Se ci vogliamo agevolare le cose possiamo andare su construction line Delimitare solo gli angoli Quindi fare una specie di x che forme un incrocio Andiamo a creare il nostro rettangolo che va da questa parte a questa parte Poi andiamo su offset E creiamo l'offset di questo Scrivendo margine Se l'offset ci viene verso l'interno ci basterà aggiungere un meno prima della scritta margine Bene Rendiamo queste quattro linee creatosi non più delle construction line Quindi potremmo dire linee di riferimento Ma le rendiamo linee effettive del disegno Premendo qua Andiamo giù finish sketch Selezionandole Eliminando per comodità l'arduino di prima Selezionandole le andiamo a estrudere di meno spessore In modo tale che come vedete si crea un bel buco Per la nostra porta sereale Possiamo riattivare l'arduino mega E come vedete c'è questo buco che però dà un po' di margine Dà un po' di aria Bene Fatto questo è giunto il momento di spezzare a metà questo body Quindi eliminiamo per comodità l'arduino mega Nascondiamolo Andiamo su construction E mid plane Quindi creiamo un piano proprio a metà Tra questo piano e questo piano Quindi le andiamo a selezionare tutti e due Come vedete ci si creerà questo piano di costruzione Perfettamente al centro Premiamo ok E andiamo a usare la funzione split body Split body Seleziono il body E seleziono lo splitting tool Quindi lo splitting tool sarà il nostro mid plane Andiamo a fare ok Come vedete se io elimino Se io nascondo construction Si sono create due body Sotto e sopra Che andremo a rinominare proprio sotto Sopra Fatto questo possiamo eliminare il sopra Perché ora ci vogliamo concentrare sul sotto Per creare i piedini che terranno fermo Arduino mega Per non farlo ballare all'interno del margine Andiamo quindi a nascondere un attimo Arduino mega E creiamo uno sketch Qui nella parte sottostante Andiamo a riattivare Arduino mega E con la funzione sempre project Andiamo a proiettare Tutti i fori presenti in Arduino mega Possiamo andare a creare l'offset Di questi buchi Premendo O Creiamo un offset Non di margine questa volta Ma di all'incirca Due millimetri e mezzo Quindi possiamo dire Spessore Diviso 2 Facciamo questo per tutti gli altri fori Quando questo andiamo a prendere le parti esterne Che saranno dove poggerà effettivamente il nostro Arduino Le andiamo a estrudere fino al nostro Arduino Quindi attiviamo la visione del nostro Arduino E disattiviamo la visione del nostro body Clicchiamo quindi qua Sulla faccia di Arduino E invece di cut Andiamo a mettere new body Quindi andiamo su ok E possiamo ripristinare La nostra visione del sotto Tutto questo si sono creati dei nuovi body Che dobbiamo andare a combinare Dobbiamo andare a unire Al nostro sotto Quindi possiamo usare la funzione combine Selezionare Selezionare sotto Poi con control Body 3, body 4, body 5, body 6, body 7, body 8 Andiamo a cliccare su ok In modo che siano di nuovo Incastrati l'uno con l'altro Fatto questo Ora dobbiamo andare a Andare a estrudere questi piccoli forellini qua Quindi di nuovo E Li selezioniamo tutti E li portiamo Questa volta Alla stessa altezza del piano di Arduino Mega Quindi clicchiamo E poi aggiungiamoci 4,65 Per esempio adesso la misura Più Margine Clicchiamo su ok E se andiamo a nascondere l'Arduino Mega Vediamo che ci sono ora Questi simpatici bastoncini Che si vanno ad intersecare Perfettamente All'interno dei fore di Arduino Mega Più un piccolo spessore Andiamo ora a lavorare sulla parte alta Quindi eliminiamo Nascondiamo la parte bassa E andiamo a creare uno sketch Qua sopra Una volta fatto questo Dobbiamo andare a Nascondere la parte di sopra Per andare con lo strumento project A proiettare tutte le linee di confine Tutti i bordi Dei nostri pin di Arduino Se selezioniamo per sbaglio Andiamo a premere shift Riselezioniamolo E si deseleziona Proiettate tutte le nostre 28 linee Andiamo su ok Quindi riabilitiamo il sopra Possiamo anche nascondere l'Arduino Mega Andiamo a premere E Selezioniamo tutti i nostri buchi E li portiamo qua sotto Ora come potete vedere Se è riattivo Arduino Mega Abbiamo tutto lo spazio Per inserire i nostri pin Aggiungiamo ora solo per estetica Un po' di fillet Su questa faccia Di 1.25 Credo sia un valore abbastanza buono Andiamo anche ad aggiungere Un po' di fillet Sulla faccia di sotto Principalmente per poterla staccare dal piatto Poi abilmente Ed ecco qua il nostro case di Arduino Mega Ora non vi basterà di fare altro che Cliccare su sopra E fare save as STL Quindi lo salverà come un file STL La stessa cosa la fate per il sopra Lo inserite nel vostro programma di slicing Io uso cura e ve lo consiglio Perché se siete alle prime armi come me È molto più semplice Molto più intuitivo Stampate il progetto E avete finalmente una protezione Di ben 5 mm Per il vostro Arduino Mega Che non fa mai male Soprattutto se lo dovete mettere Ad esempio in quadri elettrici O ancora peggio In un corpo in movimento Tipo come può essere una bicicletta Dove può facilmente Rovesciarsi per terra Graffiarsi Quindi stampatelo Se avete un Arduino Mega Il primo video del canale Finisce qui E spero di potervi rivedere Giovedì prossimo Con un altro video Perché di solito Non ce la faccio mai Perché tra l'altro È un altro canale Che si chiama Pronto CGI Che vi lascio in descrizione E niente Ci vediamo Giovedì Giovedì Non il prossimo Ma l'altro ancora Sempre su questo canale